L'importante tassello era la cosa che quando siamo arrivati ci eravamo ripromessi di fare con maggiore celerità e siamo riusciti in pochi mesi ad attivarlo. È un progetto che è partito da anni, che è stato portato avanti con l'ausilio importante delle associazioni, del mondo dell'associazionismo, dei familiari, dei bimbi, dei ragazzi che sono colpiti da questa patologia, che è una patologia particolarmente complessa, particolarmente importante, è intercettarla il più presto possibile per far sì che la cura produca un effetto. Intercettare la patologia, quindi diagnosticarla nei primi anni di vita vuol dire avere maggiori possibilità che le attività poste in essere in centri come questo abbiano un esito. Ecco perché ci abbiamo tenuto a farlo partire subito. È anche un messaggio simbolico per noi. dare la sensazione che sui ragazzi, sui bambini, sui piccoli si riesca a partire con immediatezza prima di qualunque altra cosa voleva dare il senso di una nuova modalità di affrontare le problematiche di salute all'interno dell'Asda Napoli 3.